Nuova stagione e vecchi problemi per la tendostruttura del Campo Coni che anche quest'anno ospiterà le partite del Cus Savellino. Ancora una volta però le porte per i tifosi potrebbero essere sbarrate. È molto probabile perché comunque tutti gli adempimenti che ci sono da fare non sono di breve durata, quindi è molto probabile che anche quest'anno giochiamo a porte chiuse. Tendone vandalizzato, vetri rotti e infiltrazioni d'acqua, questa è la condizione in cui versa la struttura che potrebbe essere rimessa a nuovo grazie ad una proposta di grande buonsenso. Siamo in contatto continuo con il Comune, con i preposti allo sport per cercare di trovare una soluzione sia dal lato loro se possibile, altrimenti magari si potrebbe fare una proposta a noi società di metterci d'accordo, fare questa manutenzione e magari poi scomputarcela dall'affitto annuale. Intanto si avvicina una nuova stagione, passiamo proprio all'aspetto tecnico del gioco. Abbiamo già commentato insieme le prime quattro giornate del campionato, come si prepara il Cus a questa nuova stagione? Allora, noi abbiamo avuto già un primo impegno di Coppa casalingo e non abbiamo potuto disputarlo qui per queste questioni. Quindi adesso ci aspetta il ritorno di Coppa fuori casa e fortunatamente la prima di campionato, l'8 di ottobre, è anche in trasferta. Quindi diciamo dovremmo essere pronti per il 15 per accogliere questa partita casalinga. Speriamo che per quella data si sia riusciti a mettere a posto l'indispensabile. Grazie.